Le aree interne sono sempre più a rischio spopolamento. In una o due giorni all'Aquila la Fondazione Magna Carta, assieme ad altri partner, ha messo attorno allo stesso tavolo tanti relatori per indicare strategie e buone prassi in un evento dal titolo Demografie Aeree Interne e Rischi dell'Abbandono, a coordinare lavori Giulio Derita del Censis. Una dinamica provocata dall'invecchiamento della popolazione e del basso tasso di natalità che richiede una riflessione urgente. La scelta del luogo non è casuale, l'Aquila può essere considerata la capitale delle aree interne ma anche una buona prassi. L'aspetto positivo è che oggi ci sono i fondi del PNRR che vanno spesi bene ma bisogna conoscere bene i territori e i loro bisogni. Ci sono due assi che hanno caratterizzato questa riflessione. Una è quella dei territori e questo è il motivo per cui questo convegno si è tenuto all'Aquila. L'Aquila deve essere considerata a tutti gli effetti una buona pratica, non è affatto scontato che questa città continuasse a vivere e quindi abbiamo ascoltato la voce dei sindaci degli amministratori e di coloro i quali i territori li hanno studiati. L'altro asse sono le opportunità e cioè noi abbiamo in questo momento dei soldi molto banalmente, quelli che vengono dal PNRR. Questi soldi non vanno sprecati, questa è la prima cosa importante, e vanno utilizzati bene. Qual è il nesso tra queste due cose? Che se non si conoscono i territori, non si conoscono i bisogni e diciamo i provvedimenti vengono calati dall'alto, questi hanno un'efficacia molto relativa oppure magari avviano delle iniziative che poi dopo non trovano diciamo l'infa vitale sul territorio e quindi queste iniziative muoiono. Ecco, io credo che noi siamo di fronte a una delle ultime opportunità che questi territori hanno e una delle ultime opportunità per sconfiggere un vero e proprio paradosso, perché noi stiamo assistendo in Italia a questo fenomeno. nei luoghi dove c'è una buona qualità della vita le persone se ne vanno, nei luoghi dove si vive male, le periferie urbane, le persone arrivano e questo crea le condizioni per vivere ancora peggio.